Musica Vi ritrovate ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV Oggi l'ospite è qui con noi l'onorevole Sebastiano Gurrieri, segretario provinciale di Alleanza per l'Italia della provincia di Ragusa Già deputato regionale, intanto un saluto all'onorevole, buonasera onorevole Buonasera Con l'onorevole Sebastiano Gurrieri ci occuperemo del dissesto di Comiso Perché lo spieghiamo subito, quando l'onorevole Gurrieri è diventato sindaco di Caramonte Ha ereditato una situazione di dissesto piuttosto pesante, quindi ha avuto a che fare con questa situazione problematica Ecco, spieghiamo subito ai cittadini, quando viene il dichiaro del dissesto, a che cosa si va incontro? Intanto devo precisare che io non sono il segretario provinciale dell'API Ma sono il responsabile organizzativo del partito Il segretario è l'avvocato di stallo, ma questo è un fatto secondario, non lo ritengo fondamentale Comunque io ho seguito le vicende di Comiso perché quando io ho reeditato il mio comune in uno stato di dissesto Eravamo in Sicilia 16 comuni, per la provincia di Ragusa solo Chiaramonte Quindi il dissesto nel mio paese è stato dichiarato nel 92, fine 92, inizio 93 E io sono diventato sindaco nel novembre del 93 E quindi io mi trovavo in una posizione di difficoltà perché ho trovato una delibera del Consiglio Comunale Con 29 persone messe in mobilità, 15 miliardi di vecchie lire di debiti fuori bilancio E rispetto alla situazione di Comiso politicamente io mi sentivo più forte Perché non avevo dichiarato io il dissesto finanziario Ecco, diciamo, quando si è insidato, ha avuto la possibilità di poter agire Oppure come amministrazione siete stati frenati dai commissari a livello ecco di spese? Non frenati, si diventa degli amministratori impotenti Perché scattano dei meccanismi che determinano una forma di sottotutela Nel senso che sono gli organismi superiori che decidono le sorte del Comune Per cinque anni gli amministratori non hanno i pieni poteri E quindi non si può fare la furbata di dire io ho dichiarato il dissesto E da questo momento ci sarà il relancio della città Da questo momento ci sarà il dramma per alcuni cittadini Perché alcuni servizi verranno rivisitati Ci sarà più disoccupazione Ci sarà un problema di allargamento della platea impositiva Quindi più tasse In una situazione di difficoltà generale Che, ahimè, stiamo attraversando tutti i comuni Ecco, lei si riferiva alle dichiarazioni del sindaco Alfano di qualche settimana fa Quando lui sosteneva che con la dichiarazione di dissesto Invece si risollevavano in un certo senso le sorti del Comune di Comici E con lei non condivide però questa posizione, queste dichiarazioni Non solo non condivido questo Ma in quel periodo proprio ha fatto una dichiarazione in libro uscita Facendo riferimento a Chiaramonte Aveva detto che il dissesto era avvenuto dieci anni fa Si era sbagliato di dieci anni Perché il dissesto è avvenuto vent'anni fa E lui, bontà sua, ha detto che Chiaramonte è un paese virtuoso È il paese più virtuoso della provincia Ha detto una cosa non vera Perché non conosce la realtà degli altri comuni Io penso che non conosce nemmeno la realtà del suo paese Quando fa dichiarazioni così avventate Perché se Chiaramonte è diventato un comune normale È perché è stata fatta una politica Di rilancio attraverso un progetto Agricoltura semplice e turismo di qualità Abbiamo fatto otto musei Abbiamo organizzato il consorzio per fare diventare l'olio Un olio di pregio perché l'olio Montiblei Chiaramonte si è intestato il ruolo di comune capofila No? Abbiamo fatto attività culturali Abbiamo fatto il piano regolatore Abbiamo fatto la metanizzazione Abbiamo fatto una politica di supporto Ma questo ripeto perché io non avevo dichiarato il dissesto Quindi quando io mi approcciavo col Ministero degli Interni A me non mi consideravano, fra virgolette, il figlio della colpa Perché dal Ministero, dalla Regione Quando si vedono di fronte un amministratore Dichiarato il dissesto Dice tu non è che ero obbligato a farlo Se tu facevi una politica Diciamo di rigore Al momento dell'insediamento Le soluzioni alternative al dissesto C'erano tutte Ecco, le posso fare una domanda Secondo lei, a cominci si parla di 25 milioni di euro di debito Secondo lei, questi 25 milioni di euro Possono essere stati causati negli ultimi 3 anni, 4 anni da Alfano Oppure ci sono responsabilità precedenti Ma guardi, io intanto non ho la residenza a Comiso E non sono tenuto a sapere i comportamenti Dei precedenti amministratori di quelli attuali So una cosa però Io ho fatto per 6 anni il presidente della conferenza di Sindes Quindi in parte conosco la situazione di Comiso Anche perché come sindaco di Chiaramonti Io in 8 giorni ho modificato il piano regolatore E ho contribuito a fare diventare una cosa seria L'aeroporto di Comiso Perché le 24 mila 24 mila metri quadrati di terreno Hanno consentito l'allungamento della pista da 2006 a 2004 E oggi questo fatto sarà determinante Per un'ipotesi di rilancio dell'aeroporto attraverso i voli charter Perché possono atterrare in una pista lunga e non in una pista corta Quindi con questa esperienza che ho fatto Che insieme abbiamo organizzato Allora insieme alla Camera di Comercio Insieme al sindaco Aiello di Comiso Insieme al sindaco di Giacomo Allora avevamo organizzato Come dire Un fronte comune Per fare capire a livello nazionale Che l'aeroporto era una cosa importante Per la provincia di Ragusa E però non vi è dubbio Che da parte dell'ultimo sindaco C'è stato un errore di grammatica politica Lui l'indomani del suo insediamento Doveva chiamare il regioniere capo E il segretario comunale E il revisore dei conti Investirli di un incarico semplice Che era quello che entro un mese Queste persone dovevano fornire tutti i dati E dovevano anche Vivi e sezionare I bilanci degli ultimi cinque anni E quindi Dire alla città di Comiso Questo è lo stato attuale Da questo momento Io ho la consapevolezza Che i debiti ammondano a questa cifra E quindi da oggi Io vi chiedo ai cittadini di Comiso Di Prendere coscienza Che noi non possiamo Mantenerci Il settembre casmeneo Se è vero come è vero Che questo tipo di iniziativa Determina spese Di migliaia di euro Ho fatto l'esempio Il settembre casmeneo Perché poi Un amministratore capace Non deve attingere Per fare alcune iniziative Dal bilancio comunale Si alza il sederino Dalla sedia E se ne va a Palermo Perché non è corretto Chiamare a raccolta I politici di riferimento Durante la fase elettorale Cercando di Ingannare i cittadini E poi E poi l'indomani Disconoscere I riferimenti Nazionali e regionali I riferimenti Nazionali e regionali Servono Per Investirli Delle problematiche Della propria città L'esempio più Clamoroso È quello di Ragusa Dove il sindaco Di Ragusa Attuale Ha fatto Una campagna elettorale Accanto ad Angelino Alfano Prendendo impegni Di risolvere alcuni problemi L'indomani Delle elezioni L'indomani Delle elezioni Ha detto Che la classe politica Provinciale È delegittimata E che i partiti Sono Dei contenitori Vuoti E quindi Dobbiamo fare I partiti personali E quindi Si crea Un nuovo movimento E quindi Non si può più Avere Questa possibilità Come territorio Come città E quindi Voglio dire Fra il sindaco Di Comiso E il sindaco Di Ragusa C'è qualcosa In comune E questo Succede Perché in questa provincia Ahimè Nessuno Chiede il conto Dei comportamenti Che gli amministratori A volte Usano In una maniera Spregiudicata Ecco Ritornando un po' All'edisisto Un'altra domanda Che volevo farla Quindi Quali saranno Quali sono i servizi Che devono essere garantiti Per legge Nonostante All'edisisto Quelli proprio essenziali Ma questo Penso io Alla raccolta Dei rifiuti All'assistenza Eco Trasporto Disabili Quali appunto Devono essere Quelli proprio Garantiti Nonostante Allora Intanto il problema È questo Noi sappiamo Che in base Ai documenti Ufficiali Il debito Si aggira Sui 25 milioni I tre Commissari Nominati Uno dalla regione Uno Dal ministero E l'altro Della corte dei conti Questi ora Cercheranno Di scavare Nei bilanci Negli ultimi Cinque anni Dei bilanci Prodotti Dagli amministratori Di Giacomo I E Arfano dopo E quindi Loro avranno Delle lente Di garantimento Dove Non si fideranno Solo Delle cose Che vengono Come dire Rappresentate Dagli Di manifestatori Uscenti E quindi Avranno Un'autonomia Nell'andare A cercare Se ci sono Altri debiti Fuori bilancio E quindi Il tutto Viene poi Deciso In base All'effettivo Disavanzo Oggi È Un disavanzo Non definitivo Questa è L'esperienza Che io ho fatto E che quindi Poi abbiamo Collaborato Assieme E ripeto Perché io Non avevo Degliato Il dissesto Loro Mi consideravano Un loro collaboratore Quindi io Non lo so Come sarà Il rapporto Diciamo Fra i tre Commissari E l'attuale Sindaco Perché l'attuale Sindaco In una maniera Disinvolta Dice io Continuo A fare Il mio lavoro Ma non è In una situazione Di normalità Quindi io Non sono in grado Di dire Quali saranno I servizi Garanti Certo Il problema Della spazzatura Il servizio Di anticappati Questa sarà una cosa Che sarà Secondo me Perché sono persone Di buon senso Non è che metteranno Arrepentaglio La salute Dei cittadini Quindi I servizi indispensabili Saranno Quello che sarà grave È il problema Delle tasse Perché si dice Vabbè Ma già Comiso Ha dei livelli Molto alti Sì però Con il fatto Del mutuo Che viene Erogato Dal ministero È chiaro Che non è che lo fa Gratis Chiede il sacrificio Ai cittadini E quindi I cittadini Devono Sorbaccarsi A non Ricevere Servizi Importanti E soprattutto Ecco Quello di pagare Tutte le tasse Al 100% Perché Lo Stato È un Stato Che straordinarietà Dà il contributo Però Io voglio dire Si poteva trovare Tre anni fa Tre anni e mezzo fa Una soluzione alternativa Perché Il sindaco Veniva da una posizione Di forza Perché diceva Vabbè Io È da otto giorni Da un mese Che sono amministratori Abbiamo avuto un'esperienza Anche in provincia Di Ragusa Insomma Modica Anche Alcune somme Siamo quasi a 10 milioni E voglio dire Non è che si può andare a Roma Col prefetto Il prefetto non è la mamma Che il bambino Si rivolge alla mamma Per farsi accompagnare All'asilo Che significa Andare a Roma Col prefetto Significa Volere dimostrare Alla gente Che ci si interessa Per la propria città No Tu a Roma Ci devi andare Con Angelino Alfano Al ministero Non è che ci può andare Col prefetto Il prefetto è un funzionario Dello Stato Che cosa Cosa siete dovuti andare A Roma A fare che cosa A dire che siete Certamente Quelli hanno detto Andate alla Regione Perché ci chiedete i soldi Se fate il dissesto È chiaro Dobbiamo interloquire Anche con il ministero Quindi voglio dire Ci sono state Tutta una serie Di atteggiamenti Che io li ritengo Diciamo Incomprensibili Compreso Il fatto Che per diversi mesi Dalla Regione Nessuno Ha dato risposta Alle richieste Di incontri Questo è un altro fatto Che la dice lunga Anche perché rispetto Alla somma totale Dei 25 milioni di euro Si parlava Di un impossibile intervento Della Regione Per 2-3 milioni Che comunque Rispetto ai 25 Non avrebbero Assolutamente risolto La situazione Infatti c'è stato Anche un rinvio Del Consiglio Comunale Per 10 giorni Ci vediamo un po' Che risposte arrivano Dalla Regione Però ormai Era troppo tardi Effettivamente Rispetto All'intervento Che si poteva fare Secondo lei Chiaramonte In quanti anni È riuscito poi A recuperare E a risanare Le casse Perché erano 15 miliardi Di vecchie lire Qui sono 25 milioni Di euro Quindi potrebbe essere 4-5 anni Non potrebbero essere Sufficienti Per risanare Le casse Del comune Di Comiso Beh intanto Bisogna fare subito Una cura Ricostituente Non bisogna Piangersi addosso E quindi occorre Come dire Organizzare Una politica Di rilancio L'esperienza Che ho fatto io Qual è stata? Noi avevamo Una zona artigianale Che era Completamente Ferma Perché c'era Un contenzioso aperto Con i proprietari Dei terreni Della zona artigianale E quindi Tutto questo Era avvenuto Per errore Dei precedenti Amministratori Che non hanno Seguito bene Tutte le vicende E quindi Io ho trovato Un pronunciamento Da parte Della Magistratura Che dava ragione Ai privati E quindi Assieme Al commissario liquidatore Abbiamo fatto Una transazione Abbiamo individuato Delle somme Abbiamo dato Priorità Al pagamento Con la transazione A queste benedette proprietarie Nell'arco Di due anni Abbiamo rilanciato La zona artigianale E ci sono insediamenti Che provengono Da quell'esperienza E oggi ci sono 150 200 persone Che lavorano Per un comune Di 8 mila abitanti Sono numeri Poi Poi Per cercare Di alleviare La questione Delle tasse Inventandoci Una procedura Che ancora era Sperimentata In pochissimi comuni In Sicilia Il famoso 42 terre Per Organizzare La metanizzazione La metanizzazione Fatta dai privati Quindi senza Contributi nazionali Perché in quel periodo Non c'erano Contributi Per la metanizzazione Nell'arco Di due anni Abbiamo fatto La metanizzazione Insieme al comune Di Acate E quindi La gente Ha risparmiato Il 40% Rispetto Come dire Alle spese Che provenivano Dall'elettricità O dal gas Quello comune Eccetera Quindi Questo tipo Di intervento Ha alleviato Un po' La questione Delle tasse E poi abbiamo Iniziato Tutta una serie Di attività Come le dicevo Prima Scommettendo Sulle risorse Sui beni Immateriali Che un piccolo Comune possiede Come la questione Del turismo La questione Dei prodotti Di qualità L'olio E quindi Consorzi Quindi Un minimo Di attività Per dare Speranza Anche Ai giovani Di cimentarsi Anche in agricoltura Per fare Un'agricoltura Di qualità E poi Ecco Attraverso Gli otto musei E quindi L'organizzazione Di una sala Convegni Ci siamo cimentati A fare Un certo tipo Di turismo Di turismo Congressuale E quindi Abbiamo Intrattenuto Il rapporto Con le associazioni Di categorie Delle varie Realtà provinciali E li abbiamo Invitati A venire A Chiaramonte Dandoci La possibilità Di farci visitare I familiari I musei Grades E quello Di garantire L'organizzazione Dei convegni All'interno Delle strutture Comunali Quindi Abbiamo fatto Una forma Di trasfusione Di sangue Alla città E questo Un po' Ha attudito Le difficoltà Delle tasse Al 100% E quindi Poi abbiamo Anche Come dire Organizzato E sfruttato Un'opportunità Storica Che è stata La legge La 433 Che è la legge Del terremoto Di Santa Lucia Del 91 E abbiamo Trovato Quasi 50 miliardi Di vecchie lire Per mettere In sicurezza Tutti gli edifici Pubblici E di culto E quindi E quindi Significa In un piccolo comune Mettere 50 miliardi Per fare Per mettere in sicurezza Tutte queste strutture E' chiaro Che l'economia Del paese Ne ha avuto Dei benefici Quindi Ci vuole Una politica Diciamo Forte Ci vuole La serenità giusta Per affrontare Questo tipo E questo Un po' Ha consentito Come dire Di ritornare Un comune normale Ma attraverso Una terapia D'urto Non Così Improvvisando Attività Semplici Che non possono Incidere Su una realtà Come quella Di comiso Che è abbastanza Abbastanza complessa Bene Onorevole Siamo in conclusione Prima di salutarci Un'ultima domanda Con una risposta secca Secondo lei Alfano Il sindaco Alfano Deve dimettersi O no? Guardi Mi sembra Indelicato Quello di dare io Una risposta A questa domanda Che lei fa bene A farla Perché è un giornalista E quindi E' giusto Come dire Mettere un po' Un po' Di sale Di sale Nella ferita Però Insomma Questo è Un problema Che attiene Alla propria coscienza Quindi Lui E' Un prodotto Della cosa Detta Seconda Repubblica Si considera Della società civile Si considera Una persona speciale Rispetto Ai politici Di un tempo Beh Sede Una persona Espressione Della cosa Detta Società civile E quindi Che proviene Da un contatto Permanente Con la società civile Lui deve Registrare Quali sono Gli umori Della società civile E poi si fa Un esame di coscienza E prende una decisione Bene Noi ringraziamo L'onorevole Sebastiano Curieri Per essere stato qui con noi Grazie Onorevole L'appuntamento Grazie a voi L'appuntamento Con i nostri telespettatori Per la prossima puntata Di 15 minuti con Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti